Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Monete di Valore Nel video di oggi, se non conoscete questa moneta, state vedendo un cartoncino alquanto particolare Magari un po' strano per chi non è abituato a conoscere le monete del Portogallo Ebbene, questo cartoncino contiene al suo interno una 2 euro proof, quindi qualità fondo specchio del Portogallo dell'anno 2011, che è stata emessa per commemorare il 500esimo anniversario della nascita dell'esploratore Fernão Mendes Pinto Si tratta di una moneta che è stata coniata in diverse modalità Esiste la versione in fior di cogno destinata alla circolazione, di cui sono stati coniati 500.000 esemplari Esiste poi la versione simile a questa, ma in coin card, sempre in fior di cogno, di cui esistono 12.500 esemplari E poi esistono 7.500 folder, come questo, che contengono la moneta in qualità fondo specchio Vediamo un attimino come è fatto il cartoncino E poi vediamo come è fatta la moneta al suo interno Allora, il cartoncino si estrae in questa maniera Dentro troviamo la nostra moneta Moneta fondo specchio I riflessi si vedono meglio di come siamo solitamente abituati a vedere i riflessi quando la moneta incapsula Infatti qui la moneta è plastificata insieme a questa sorta di coin card Questo in realtà poi sarebbe un certificato di garanzia Qui troviamo l'aspetto tecnico della moneta, le caratteristiche tecniche Valore facciale 2€, il diametro, il peso Insomma, i soliti valori di tutte le altre monete da 2€ Cerchiamo di vedere da vicino come è fatta la moneta E dato che Fernão Mendes Pinto fu un grande esploratore Per commemorare le sue avventure è stata coniata questa moneta Moneta che ricordo è del Portogallo Coniata nel 2011 Vediamo un attimino velocemente quali sono i valori di questa moneta Allora, come dicevo inizialmente Esistono delle monete in fior di conio Perché questa moneta è stata destinata alla circolazione Quindi è possibile trovare anche la moneta circolata In realtà è un po' difficile a trovare in circolazione Ma nel caso in cui dovesse trovarla Il suo valore sarà sempre quello dei 2€ Magari però, proprio perché si ha difficoltà nel trovarla Qualcuno potrebbe essere interessato ad acquistare anche la moneta circolata Ma il suo valore non potrà mai superare i 3€ Nella versione fior di conio, quindi si tratta di monete che vengono acquistate Direttamente dai negozianti O magari da coloro che hanno acquistato un rotolino E vendono le monete singole Bene, in questo caso il valore di una moneta si agira tra i 7 e i 9€ Ebbene sì, una moneta in fior di conio di questo tipo Può arrivare a valere anche 9€ Per quello che riguarda il folder che contiene la moneta in fior di conio Quindi assomiglia molto a questo Solo che la moneta è in fior di conio In quel caso la moneta in coin card Ha un valore che oscilla tra i 15 e i 18€ Per quello che riguarda invece questa versione Dove la moneta è in fondo specchio Quindi la moneta proof I valori variano tra i 45 e i 60€ Per quale motivo c'è questa differenza? Allora diciamo che questi cartoncini si rovinano molto molto facilmente Quindi diciamo che è possibile Anzi nella maggior parte dei casi Si trovano delle righe sui cartoncini Magari le punte sono leggermente spuntate Sia il cartoncino esterno che il cartoncino interno Quindi diciamo che in questo caso Quando i cartoncini sono leggermente rovinati Le quotazioni oscillano tra i 45 e i 50€ Quando invece il cartoncino come in questo caso È in condizioni perfette Il valore aumenta leggermente Al momento parliamo di quotazioni che vanno intorno ai 60€ Per le monete con il cartoncino perfetto Bene Con questo non ho altro a dirvi su questa moneta Vi ricordo che se avete bisogno di conoscere le quotazioni di una moneta specifica Potete scriverlo nei commenti Io cercherò di accontentarvi il prima possibile Magari con un video apposito su questa moneta Se questo video ti è piaciuto lascia un mi piace A te basta un piccolo click per sostenermi Per far crescere ancora il mio canale E se non sei ancora iscritto Iscriviti al canale Moneti di Valore Un saluto a tutti Ciao